Penultima di andata del Girona di Serie D, ultima di battaglia, dove arriva l'avversario più prestigioso, il Varese. Primo tempo decisamente povero di occasioni, si va al riposo su 0-0. Nel secondo tempo il Varese parte alla grande e Bellomo la fa da protagonista. Nessun ce ne voglia, ma l'occasione più nitida per sbloccare la partita, arriva sulla staffilata di Putignano. Per la formazione di Ganti, il punto conquistato con il personatissimo avversario, Faba Morale, in vista del Super Derby, il programma domenica pomeriggio alle 14.30 di Peruno.